Eccoci. Rovazzi. Rovazzi. Bravo Rovazzi. Grazie. Bravo. Ben successo. Complimenti. Ora è il momento di farne un altro di successo. Ma io in realtà... Non c'è in realtà. È obbligato. Da contratto lo deve fare. Se lei non lo fa, le portiamo via la vita. Rovazzi. Lei è nostro per i prossimi vent'anni. Però io Rovazzi la gente come lei la conosco, sa? Piace ai bambini, piace alle mamme. E quindi no parolacce. Per questo motivo noi dalla struttura l'abbiamo affiancato un professionista della censura. Era Enrico? Ci penserà lui. A lei. E ora vada Rovazzi. Vada. Vada. Crei. Crei. Credo di essere stato fin troppo chiaro. Arrivederci. Ma io non ho capito in definitiva cosa... Non ho capito Rovazzi. Una cosa che piace è i giovani. Quelle cose che stanno nel computer, sui telefonini, Snapchat. Instagram. Bravo. Instagram. Bellissima idea. Vada Rovazzi. Vada. 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 Rovazzi. 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 Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Vai in palestra all'estetista, giornata pesante. I nostri nuovi filtri dove cambiano le facce. L'ingua fuori in testa, fiori e bocca gigante. Ed è la tua foto dove sbocci in discoteca. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. Guarda, 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 guarda. Il cao che me ne frega. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. E' tutto molto interessante. Faccio cose, vedo gente, sembra molto divertente. Tutto bene, siamo amici fino a quando tu mi dici andiamo a comandare. Poi fai il balletto con le spalle. Molto bello, divertente. Sì, ma ha rotto le palle. L'oroscopo di oggi dice sfiga devastante. Specchio rotto, gatto nero, leggimi le carte. L'offerta che proponi è così piena di vantaggi. Due minuti, mezzo giga, tre mila messaggi. E con l'aereo scrivo in cielo perché tu lo veda. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. Guarda, 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 guarda. Il cao che me ne frega. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. E' tutto molto interessante. E' tutto molto interessante. E' tutto molto interessante. Comprendere le cose che ho detto come un'offesa. Smettila di fare la vittima e l'incompresa. Per farti felice ho preparato la sorpresa. Con la bomboletta scritta sulla luna piena. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. Guarda, guarda, guarda. Il cao che me ne frega. Aspetta che ti mostro il cao che me ne frega. Venga Rovazzi, mi segua, venga. Ecco qua, bravo, eh? Ottimo lavoro, Rovazzi. Vedi come puoi vincere dal nostro piccolo gruppo di lavoro e di ascolto il suo brano piace. Piace molto ai bambini. Piace molto ai bambini.